E' stoppato il video perchè mi si è spento Cos'è qua il continuo Cioè non mi si è spento intendo che Non mi si è scaricato però Vabbè in pari eravamo che L'altra luogo ha scaricato E mi ha scaricato con questi due pezzi Sapete cosa? Vorrei un compito Tutto 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 no sto alformando l'unico che c'è per andare se segui i passi dei film pensi che il tuo gorilla possa farcela apri le scale per trovare quello che raga mi sa che c'è raga mi sa che c'è raga mi sa che c'è raga perché più mi si è crashato si è fermata la luce la canzone però non sono soliti vabbè ma questo vi ha accesa la luce no 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 aspetta 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 un attimo eccoci raga vabbè andiamo di entrare non 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 ui Non, 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 non. Non, 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 non Sì, non vedete, tu sbagli. Sì, non dovete fare. Ah, Dio, 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 Dio. Vedi un'occhina. Abbi scopri trego, per ti sali. Devo fare tre calci. Dove entra un pedo in un barterdock. E io non collaboro con questo perché. Stai giusti. Non è io. Stai giusti. Stai giusti. Va. Stai giusti. E io non mi scopriare. Non prendiamo colmine. Per figura. Non andrò. Comedial movies. lost. Non op organizations. �ar Polsce... Un color neutro. Oh, chiama! Chiama approf María. Oghi so 쓸ai grande. Non, non. Schön. Cesai. Alla 머리. astre. C'è una carta, non ho vabbè, non ho vabbè. adesso lo abbiamo ridotto mi piacerebbe questo è il cerchio oppure vediamo adesso l'altro 2 2 ok non mi scappa un corso non dai 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 stoffa beh penso che non è che si sia fatto ci vediamo al prossimo video spostiamo questo video delle canzoni domani domani facciamo tre giorni a casa ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao